Di nuovo da Stefano Ballerini, venerdì 22 gennaio, 18.30, minuto più, minuto meno, siamo di nuovo con voi con una puntata, torniamo a parlare di palla a nuoto, dal torneo di A1 maschile che è ripreso agli impegni della Nazionale Femminile a Trieste. Quando andiamo a registrare, cioè oggi a mezzogiorno e mezza, ovviamente vediamo la situazione finale al termine dei gironi di qualificazione, l'Italia vince il suo precedendo l'Olanda, abbiamo inondato ieri la Slovacchia tanto a poco come ci eravamo augurati di fare per vincere il girone, vincerlo a pari punti con l'Olanda ma con una migliore differenza reti, noi chiudiamo a 52 fatte e 17 subite, le Orange terminano a 45 fatte e 15 subite. Allora però partiamo subito con tenere sotto controllo quello delle notizie che ci arrivano da Trieste, dunque riviviamo tutto quello che è successo in queste ultime tre giornate, avevamo iniziato triplicando la Francia nella prima partita 19 a 6 con 5 gol di Parmieri, 3 di Aiello, doppiette per Biancone e Chiappini, single per Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Giustini, Via Cava con la Gorlero che parava un rigore alla Vernù. Dunque iniziavamo subito bene, però l'Olanda replicava poi battendo la Francia 22 a 2 e ci preoccupava la differenza reti, pareggiavamo con qualche recriminazione per Legni e Travezze, colpite, finivamo 7 a 7 con l'Olanda nello scontro nel big match, 2-1, 1-2, 3-3, 1-1 con Gorlero tra i palli, Tabani 2, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, 2 di Marletta, Bianconi, una di Giustini, una di Palmieri, una di Chiappini, via Cava a Sparano, poi terminavamo il girone sapendo già cosa aveva fatto l'Olanda che aveva battuto nel sequenziale la Francia per 16 a 6, noi dovevamo segnare tanti gol, non davamo la Slovacchia, vincevamo largo 26 a 4 e terminavamo come detto 52 fatte e 17 subite contro 45 fatte e 15 subite, primo posto sia pur a parità di punti ma con la migliore differenza reti, quando noi andremo in onda 18 e 30, quella della trasmissione che state vedendo adesso, l'Italia sta giocando nel quarto di finale contro Israele, ci auguriamo come da pronostico ampio del betting vittoria italiana, tanto a poco credo e qualificazioni alle semifinali dove potremo trovare l'Ungheria, contro la Slovacchia, Gorlero tra i palli, Tabani 1, Garibotti 4 di Cugliurigore, Avegno 5 di Queruolo, 3 di Aiello, 1 di Marletta, 2 di Bianconi, 4 della Giustini, di nuovo 5 gol della Palmieri, uno di Chiappini via Cava Sparano, allenatore ovviamente Zizza, parziali 6-1, 7-0, 5-2 e un incredibile 8-1 in tempo finale e dunque con il doveroso minuto di raccoglimento in memoria di Luca Manprin, fisioterapista della Nazionale Maschile di Pallanuoto, prematuramente scomparso. Dunque brava la Nazionale di Pallanuoto, da qua si va alla qualificazione per le Olimpiadi, sempre se le Olimpiadi ci saranno. Questa mattina ne abbiamo parlato con Paolo Casella, abbiamo letto i titoli, il Times di Londra direbbe di serie dubbi, il governo giapponese starebbe pensando di valutare in ultimissima analisi di non far disputare le Olimpiadi, non ha un senso disputare le Olimpiadi tanto per mandarle all'effetto, senza pubblico, con spedizioni dimezzate, con magari panorama delle gare dimezzato, alcuni sport tagliati. Il Giappone passerebbe alla storia come l'unica nazione ospitante che per due volte, guerra mondiale e questa, dovrebbe in ultima analisi rinunciare alle Olimpiadi che per quello che riguarda una nuova possibile candidatura del Giappone potrebbero riprovarci i nipponici nel 2032, la prossima finestra slot aperta. Andiamo a vedere quello che è successo invece nel campionato. Io preannuncio, non l'avevo fatto proprio all'inizio del tema, che questa è una puntata, ve ne accorgerete un po' stramba e strana. Passo da Bischero, voglio passare da Bischero, come si dice a noi in Firenze, d'ora in avanti, fino a quando io valuterò di attuare questa politica, non pronuncerò più il nome della squadra fiorentina. Poi durante lo svolgimento, non so se darò il risultato completo, non so se vi darò la classifica, vediamo come scorre la trasmissione. Sapete qual è il problema, ma molti di voi probabilmente non lo sanno. La squadra fiorentina si è devoluta a una televisione di Firenze, non faccio i nomi, che ne gestisce tutti gli aspetti stampa, promozione e quant'altro. Ci hanno negato di poter lavorare i nostri tre minuti di cronaca, le interviste, le ultime fatte. Siamo stati costretti a farle fuori all'addiaccio, allo sgocciolo, con i rumori della strada di notte con poche luci. Non ci riproveremo mai più, non andremo mai più a lavorare alla piscina Nannini, fino a quando sarà la squadra fiorentina, la società e il suo presidente, a richiamarci, a inoltrarci le pubbliche scuse. Io passo da Bischero. Loro si sono buttati in questo problema? Io, a canale 196, qui dalla redazione di Tele Firenze per lo Super Sport, è casa mia. Gestisco io e decido io come fare le cose. Qualcuno mi dirà, il ballerini si è improvvisamente rimbischerito? Sì. Ebbene sì, loro provocano la mia provocazione. Vediamo alla lunga chi avrà ragione. Poi io andrò a Milano a parlare con la Leve Sport, a vedere se sotto questa situazione dei diritti sportivi della televisione c'è sotto qualche gabola, se potrò, io non ho problemi finanziari, se potrò, a un certo punto, comprerò io i diritti di questa squadra fiorentina, ma quella televisione alla Nannini non si vedrà mai più entrare. E' chiaro? Li ricomanderò io se io determinerò di voler attuare questo ulteriore passo. Allora, girone A. Iren, Genova, Quinto, Salerno, 10-7. 5-3. 2-2. 0-2. 3-0. Liren, Quinto, con Pellegrini tra i pali, l'ex Fiorentino Panerai 3, Fracas, Mugnaini, Brambilla, Guidi 1, Gavazzi, Nora 2, Ferrero, Bittarello, Gitto, l'ex Firenze 2, Gambacciani 2, Pellerano, allenatore Lucianti ex di Firenze. Queste sono le immagini che arrivano dalla piscina Ligure del Genova. Iren, Quinto, Salerno che si è schierato con Santini tra i pali, Michele Luongo 2, Esposito 1, Patuzzo, Scotti Galletta 1, Gallozzi 1, Tomasic, l'ex di Firenze, Cuccovillo, Elez 2, ex Brescia, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano il 13, allenatore Citro, con nel primo quarto Salerno che va in gol con Luongo, Genova pareggio con Gitto, Genova va avanti con Gambacciani, triplica con Panerai, Salerno a Corcia con Luongo, ancora in gol Gambacciani, Scotti Galletta per Salerno, Nora per quinto nel secondo quarto a Corcia Salerno, Elez riallunga quinto con Gitto, Nora ancora per quinto, Esposito Salerno, nel terzo quarto Tomasic, un gol ed Elez su rigore nel quarto quarto. Il gol di Guidi per Iler, il gol di Panerai, la doppietta di Panerai per Genova quinto, che termina con 6 su 9, due rigori, Salerno 4 su 15, un rigore espulsi per proteste i tecnici Lucianti e Citro. La classifica Recco 6, Salerno 3, Genova quinto 3, con nella speciale prima classifica dei marcatori di Fulvio, poi li vedremo la vera classifica di tutti i gol, di Fulvio Recco 10, Panerai quinto 8, Luongo Michele Salerno 7, Mandic Recco 6, Luongo Recco 5, Younger Pro Recco 4, Gitto Genova in quinto, quattro gol. Nel girone B, Roma Nuoto Brescia, tanto a pochissimo, 5-25, Brescia in onda la piscina del Fornitannico, 2-7, 0-7, 2-5, 1-6, Roma Nuoto con De Micheli Strapali, Ciotti, Vavic uno dei due, Faraglia un gol, Faraglia Francesco, Faraglia Paolo, credo di ricordare, vado a memoria, scusatemi se poi i nomi saranno diversi, Di Santo, doppietta di De Robertis, Nico Pavice senza gol, Graglia, Casasola uno, Spione uno, Tartaro, Maiolatesi, allenatore Tafuro, Brescia con del lungo tra i pali, Dolce due, Presciutti due, Lazzic tre, Iokovic due, Valzarini uno, Renzuto Iodice, tre gol, Cannella uno, Alesiani cinque, Vlacopulos due, Di Somma tre, Gitto uno, Rossi il tredicesimo, allenatore Bovo nel primo quarto assegno Brescia con Iokovic, Presciutti, Cannella, Vlacopulos, poi la Roma con De Robertis, ancora Renzuto Iodice e Brescia, segue ancora Alesiani per il Brescia, un gol della Roma con Spione, Brescia con Bazzarini nel secondo quarto, Brescia ampia con Lazzic, Alesiani, Iokovic di Somma, Renzuto Iodice, Dolce e Vlacopulos, terzo quarto, ancora di Somma, poi il gol per la Roma di De Robertis e ancora Brescia, che in onda la porta romana, Presciutti, Alesiani, Accorcia, Faraglia, Gitto, Lazzic nel quarto quarto, tanto a poco, Brescia con Dolce, replica Roma a casa sola, Brescia con Renzuto Iodice, Alesiani, Alesiani, Di Somma, Lazzic nella Roma iniziava tra i pali il numero 13, Maiolatesi con Supranumeriche, Roma due su sette, Brescia tre su sette con tre rigori realizzati, esce Faraglia nel quarto tempo, la classifica Brescia nove, Trieste tre, Roma zero, con nella riquadrino della classifica marcatore del girone, Vlacopulos, Brescia nove, Alesiani, Brescia sette, Renzuto Iodice e Lazzic sei, Cannella per il Brescia cinque, Di Somma, Brescia cinque, Iokovic, Brescia cinque, Spione Roma quattro, il girone C, Lazio nuoto, Ortigia sette undici, dunque piscina del Foritalio che davvero non porta fortuna alle squadre romane, Lazio che andava in vantaggio, quattro due, poi uno tre, due uno, ultimo tempo a favore dell'Ortigia, cinque a zero, Lazio con, solo tra i pali, Ferrante, Neni, le immagini della piscina del Foritalico, dove da una porta si tocca, non quello ovviamente sotto il trampolino, dall'altra parte un portiere appena più lungo, batte i piedi per terra e si erge, spiccando l'elastico, Roma e Lazio che stanno continuando, si gioca lì da 1960 con un, una deroga della federazione, non solo italiana ma anche federazione europea, dunque Lazio, Soro, Ferrante, Neni, Vitale, Alessandro con due gol, Marini uno, Caponero uno, Antonucci, Tarquini, Narciso con un gol, Maddalono due, Provenzani, Provenziani, Moscardelli, allenatore Sebastianutti, Lortigia con il mio amico, Stefanone Tempesti, detto Lairone, Cassia, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero poi, doppietta di Giacoppo, un gol dell'ex Posigli, Pogalli, Mirarchi, tripletta di Rossi, uno di Vidovic, poker di Napolitano, Piccionetti, all'elantore Piccardo, primo quarto, Ortigia, Napolitano, Lazio Marini, Lazio in vantaggio, Maddaluno, Lazio che triplica, con Vitale, Rossi ad accorciare, Lazio Caponero, dunque primo quarto, a sorpresa, ricordo, la Lazio si è aggiudicata, il primo quarto, 4-2, Poi nel secondo periodo, Ortigia Gallo, che trasforma il rigore, Lazio con Artiso, Ortigia con Napolitano, Ortigia con Napolitano ancora, nel terzo quarto, Vitale per la Lazio, Rossi-Ortigia, Maddaluno per la Lazio, poi nel quarto quarto, l'Ortigia domina, in gol, Napolitano, Rossi, Giacoppo, Vidovic e Giacoppo ancora, Lazio, 5-11, Ortigia 4-8, con due rigori realizzati, esce il solo Marini nel quarto quarto, Ortigia 9, Lazio 3, Telimar 0, Telimar ha giocato uno scampolo di partite, con nel tabellino del terzo girone, Napolitano 7, Ortigia, Giacoppo 6, Ortigia, poi Narciso, Lazio 4, Ferrante, Lazio 3, Vitale, Lazio 3, Vlaovic, centravanti della Fiorentina, ma anche giocatore di attacco della Terriam al Palermo, 3 gol, Maddaluno, Lazio 3, 5 per Gallo dell'Ortigia, che poi va a incastonarsi, è il terzo dietro, Giacoppo, andiamo nel girone di, piano piano arriviamo al Clu, al Nesso, intanto, Posillipo, Sandonato, Metanopoli, a sorpresa, 7-7, 2-1, 1-1, 3-3, 1-2, Posillipo con la moglia, tra i pali, Iodice, Max di Martire 2, Picca, Mattiello 1, Parrella, Scalzone, Silvestri, Giovanni di Martire 1, Bertoli 1, Baraldi 1, Saccoia 1, Spinelli, allenatore Brancaccio, Sandonato, Metanopoli con Ferrari tra i pali, Baldineti 1, Brambilla, Bianco, Somma, Di Somma, Ravina, Lanzoni 1, Monari 3, Bianco 2, Giovanni, Busilacchi, Cimarrosti, Cavallini, Cavo, allenatore gamba corta, nel primo quarto, Posillipo, Saccoia, Sandonato, Metanopoli, Bianco, Posillipo, Mattiello, secondo quarto, Sandonato con Monari in gol, pareggia Di Martire, nel terzo quarto, Lanzoni e Sandonato che mette dentro il rigore, Posillipo, Bertoli, Sandonato, Monari, Posillipo, Di Martire, Sandonato, Metanopoli, Monari, Posillipo, Baraldi, nel quarto quarto, Sandonato a segno con Baldineti, Metanopoli con Bianco, Posillipo con Di Martire, nelle usciti per falli di Giovanni Di Martire, di Somma, nel quarto tempo, super elettorio numeriche, Posillipo 3 su 16, non bellissimo, Metanopoli 2 su 8, un rigore, espulsi per proteste, Saccoia, Posillipo e Bianco, Metanopoli nel terzo tempo, per falli di violenza in gioco, e per brutalità, Bertoli nel corso del terzo tempo, andiamo, entriamo nel novero dell'imbecillità, tra virgolette, Savona che batte, quella squadra fiorentina, 15-8, 2-2, 3-1, 5-2, 5-3, Savona con Massaro, Paciali e Vebertino, 3 di Buscovic, 2 di Molina, Rios, Lex, Rizzo, Piombo 1, Bruni, Campopiano 4, Fondelli 2, Gliocchi, Gratta 2, Maricone 1, Darold, allenatore Angelini, della squadra fiorentina, non vi do i gol, ne pronuncio i nomi, va bene così, nel primo quarto, Savona, assegno con Fondelli, e Gliocchi, Gratta, nel secondo quarto, assegno Molina, Rios, Lex, Buscovic e Gliocchi, Gratta, nel terzo quarto, Buscovic, Campopiano, Doppietta, poi, Maricone e Piombo, nel quarto quarto, Buscovic, Campopiano, Fondelli, Molina, Rios, Doppietta dell'ex, e chiude Campopiano, che trasforma un titolo di rigore, Savona, sei su nove, due rigori avuti, quella squadra fiorentina, quattro su dieci, allora, ci sono, 102 golle nel turno, per un totale di, 364 gol segnati, questa classifica ce l'ho, solamente io, dodici gol, comanda, Lanzoni, San Donato, Metanopoli, poi c'è, Francesco Di Fulvio, Recco, dieci, Max Di Martire, nove, Posillipo, otto, Bertoli Baraldi, Posillipo, Fondelli, Savona, Panerai, Genova, era in quinto, Campopiano, Savona, con sette gol, Michele Luongo, Salerno, poi troviamo, Di Martire, Massimiliano, Massimo, Massimiliano, Bertoli Baraldi, del Posillipo, Monari, San Donato, Buscovic, Savona, Napolitano, Ortigia, con sei, Mandice, Prorecco, Prorecco, Fondelli, Savona, Poi abbiamo, Alesiani, del Brescia, poi troviamo, a cinque, Luongo del Recco, Ravina, San Donato, Rizio, Savona, Gallo, Ortigia, Giovanni Di Martire, Posillipo, Vlacopoulos, del Brescia, Vitale della Lazio, Dolce del Brescia, e Dolce del Brescia, assolutamente sì, poi scaliamo a quattro, Younger, Prorecco, Mirarchi, Ortigia, Di Somma, San Donato, Vidovic, Ortigia, Narciso Lazio, Mattiello Posillipo, Spione Roma, Molina, Rios e Savona, Gitto, Savona, Giovanni Bianco, San Donato, Rossi, Ortigia, Rensuto, Iodice, Brescia, con tre, Cassia, Ortigia, Eceniche, Recco, Ferrante Lazio, Vlaovic, Telimar, Busilacchi, San Donato, Parrello e Lanfranco del Posillipo, Petronio Trieste, Vavic della Roma, Cannella e Lazic delle Brescia, Casa Sola Roma, Jocchi Gratta del Savona, Maddaluno Lazio, Jokovic Brescia, Erez Salerno, Gambaciani Genova, Iden Quinto Faraglia, Roma con due gol, troviamo la coppia del Recco, Figlioli Ivovic, Busilacchi, Calionna, Metanopoli, Ferrero Ortigia di Santo Roma, Gagliotto del Basso, Emigliaccio, Telivar, Bubiasic e Vico di Trieste, Vavic Roma, poi troviamo Saccoia, Posillipo, Baldineto, Baldinetti, Sandonato, Marini Lazio, Balzalini, Brescia, Esposito, Salerno, poi abbiamo Tomasic, Salerno, Nora, Genova, Iden Quinto, De Robertis, Roma con un gol, Infine, Iodice, Parrella, Posilli, Ponuzzo, Presciutti, Figari, Recco, Brambilla e Guidi del Quinto, Bertino, Bruni, Urbinati, Caldieri, Savona, Brambilla, Metanopoli, Giliberti, Marziali della Telemar, Nicolaidis del Brescia, Sanchez, Spatuzzo, Parrilli, Scotti Galletta, Salerno, Brambilla, Inava, Genova Quinto, Podgornic, Razzi, Milakovic, Mladossic e Mezzaroba del Trieste. E dunque questo è l'aggiornamento della classifica, marcatori, rigori concessi, sono in totale 130, Sandonato, Metanopoli 7, uno sbagliato da Lanzoni, ha colpito il palo, 5 del Savona, 3 della Terriman, uno sbagliato da Damonte, parato da Stefano Tempesti, 4 del Quinto e 4 del Brescia, 3 del Posillipo, uno sbagliato da Max Di Martire, parato da Ferrari Metanopoli, 2 Prorecco e Salerno, uno della Lazio, sbagliato, parato da Tempesti a Maddaluno, poi abbiamo uno della Roma, sbagliato da Vavice, parato da Oliva di Trieste, uno di Trieste, i portieri paradigori sono, Tempesti con 2, Maddaluno, Lazio con 1, Damonte 1, Telimar, Ferrari 1, di Sandonato Metanopoli, Di Martire, Posillipo, Oliva, Trieste, dunque rigori sbagliati, assommano a 5, Maddaluno, Damonte, Lanzoni, Max Di Martire, Vavice, le superiorità numeriche aggiornate, Ortigia, assomma 17 su 28, Telimar Palermo, 5 su 18, Lazio 8 su 29, Posillipo 22 su 52, quella squadra fiorentina 13 su 37, Sandonato 7 su 34, Recco 7 su 10, Salerno 10 su 40, Savona 20 su 29, Trieste 3 su 8, una sola partita, Roma 6 su 19, Quinto 12 su 26, Brescia 10 su 21, i cattivi finiti anzitempo nel quadrato dei cattivi, nel cosiddetto Pozzetto, Antenucci, Vitale Lazio, Picca, Posillipo, poi abbiamo Scalzone del Posillipo, Faraglia, Roma e Fondelli, Savona, poi segue Bianco, Metanopoli, Parrilli, due volte, Scotti, Galletta del Salerno, Fortunato del Salerno, Inava, Gavazzi e Brambilla, e Mugnaini del Genova Quinto, gli espulsi invece, i cattivacci, Lucianti Quinto, Citro Salerno, che sono allenatori, Saccoia, Bertone del Posillipo, Bianco, Sandonato, in questo weekend è passato e iniziato anche il campionato, di a due maschile, Girone Nord-Ovest, Lavagna 90, Spazio Camogli 10-12, Crociera Stadium, Marenzano 12-10, Sportiva Sturla, Bogliasco, nel derby Ligure, 8-14, presto detto la classifica, chi vince, fa tre punti, chi perde 0-3, Camogli, Crociera Bogliasco, a 0, Lavagna 90, Renzano e Sturla, con, Neggirone Nord-Est, Brescia Water Polo, Comonuoto, 13-8, Reale Mutu a Torino, 81, Iren, Raninante e Sori, 15-8, Plebiscito Padova, De Hacker Team, 8-10, anche qua, facile stabilire la classifica, dopo il primo match, a tre punti, Brescia, Reale Mutu a Torino, De Hacker Team a 0, Comon, Sori e Plebiscito Padova, nel Girone Centro, Vela Ancona Nuoto, Civitavecchia, 14-10, Roma Visnova, Pallannuoto, Pallannuoto Lazio, 10-12, nel derbissimo della capitale, dunque, tantissimi gli impegni, nella piscina del Foritalico, esaurita, in ogni, orario di gioco, nel weekend, Roma 2007, Arvalia, contro il Toscolano, Pallannuoto, nell'altro derby, Romano, 7-5, anche qui, presto, non ci sono pareggi, a tre punti, Vela Ancona, Pallannuoto Lazio, Roma Arvalia, a 0, Civitavecchio, Roma Visnova, e Toscolano, Pallannuoto, nel Girone Sud, Arecchi, Unime, 10-10, l'unico pareggio, nella prima giornata, nella 2, DMG Nuoto Catania, copre al muro antichi, Catania, il derbissimo, 15-11, Radinandes Napoli, che ha retrocesso, allo scorso anno, Acqua Chiara, Ati, 2016, Catania, Napoli, 3, Arecchi, Unime, 1, Copral, Muri Antichi, Acqua Chiara, Ati, hanno 0 punti, dunque, questa, la puntata di questa sera, venerdì 22 gennaio, forza la nazionale azzurra, di nuoto femminile, per conquistare il pass, giocando in casa Trieste, purtroppo, cosa dire, piscina bellissima di Trieste, è bello anche il, come si può dire, il colore dell'acqua, con il fondo della piscina, ha dei colori veramente bellissimi, purtroppo, tribune, silenti e deserte, così purtroppo è, forza Italia, mi auguro che, l'Italia abbia nel frattempo, abbattuto Israele, abbia staccato il pass, per la semifinale, dove dovrebbe, numeri alla mano, trovare, l'avversario più pericoloso, l'Ungheria, dal grandissimo valore, di pallannuoto, tra team maschile e femminile, noi ci ritroviamo qui, la settimana prossima, sempre di venerdì, che rimane l'appuntamento fisso, da Stefano Ballerini, dalla nostra redazione, non me ne vogliate, federazione, non me ne vogliate, so che avete stima del sottoscritto, un'amicizia negli anni, tutto quello che vogliamo, la mia è una pura e semplice, provocazione, voglio dire, qual è la missione, dell'ufficio stampa, di una società, è che di quella società, se ne parli, il più possibile, vengono scritti articoli, il più possibile, ci siano interviste pubblicate, in video, dove è possibile, il più possibile, tutto questo, non succede, loro vanno incontro, ad una sconfitta certa, so che l'ha detto stampa, della Rari, credo si sia accomunato, sulla mia stessa lunghezza, non vuole più, avere a che fare, con chi gestisce, i diritti sportivi televisivi, di quest'anno, di quella squadra fiorentina, bravo, bravo il mio amico, pertanto, vedremo cosa succede, ho già dato, ho informato, che questa puntata, va in onda, ed è andata in onda, sotto questa forma provocatoria, è tutto, ci vediamo la settimana prossima, vi ragguaglierò, se nel frattempo, la provocazione, ha portato a qualche sviluppo, buon weekend a tutti, forza la palla a nuoto, eccola qua, il pallone, da scaraventare in porta, alle squadre avversarie, del Sette Rosa, in quel di Trieste, forza azzurre, da Stefano Ballerini, la più cordiale, buonasera, Alina che torna allo studio, grazie.